Affrontiamo una squadra che ha fatto una stagione eccellente, possono usare tutti gli agitivi migliori per valutare quello che hanno fatto. L'impresa della Coppa Italia è molto più che una ciliegina sulla torta, ma è veramente una grande conquista e questo frutto al lavoro. Però Sacchetti è riuscito in poco tempo, perché la squadra è tutto sommato con cinque stranieri nuovi, a metterli insieme e a ottenere questi eccellenti risultati. Una squadra che poi gioca bene, sfruttando tutte le sue caratteristiche, soprattutto la sua fisicità, il suo grande atletismo, che gioca bene in attacco ma anche in difesa. Una squadra che è difesa ti crea delle difficoltà, non ti lascia fare niente, quindi è veramente completa sui durati del campo. D'altronde non è che vinci tutte le pride che hanno vinto e vinci un trofeo come la Coppa Italia se non sei completa. Quindi veramente in poco tempo Sacchetti è riuscito a mettere insieme questa squadra nel miglior modo possibile. E grazie anche al lavoro che ha fatto eccellente su Ruzziere e Ricci. Sono due giocatori che hanno fatto dei passi avanti incredibili. Ricci ha fatto già un inizio di stagione di altissimo livello. Ruzziere sta facendo da diverso tempo questa parte, una crescita di altissimo livello. Veramente grandi complimenti a loro due, all'allenatore, perché poi dopo se non c'è una spinta è chiaro che c'è sempre un lavoro dietro. Poi gli altri giocatori sono stati pescati in un modo notevole perché Crawford è stato MVP della Coppa Italia ma sta giocando con un profitto altissimo. Un giocatore che tira da tre punti con grandi percentuali, tira uno contro uno con grande fisicità, prende rimbalzi, fa veramente tutto. Sounders lo stesso dica se con grande fisicità ti creano dei problemi anche poi di mismatch. Sono due giocatori che giocano in posizione di guardia e hanno una certa taglia importante. Avvicino a questi giocatori di uno contro uno c'è Oldis che è un tiratore da tre di alto livello e poi è cresciuto ultimamente anche Matiang sotto canestro. Matiang un lungo veramente di un'energia, di fisicità notevole. Il tutto con, lo lascio per ultimo ma è un debole sicuramente per lui che è Travis Diner che è un giocatore che è veramente un genio della palacanestro. Come fa giocare tutti i suoi compagni, come faceva giocare in passato le sue squadre ma sembra che il tempo per lui non sia mai passato. Perché pensare che uno che sia stato fermo tra tre anni di inattività veramente è uno dei miracoli della palacanestro verlo giocare in queste cose. Quindi veramente per me era lui il vero MVP della Coppa Italia. Però sai, poi sempre c'è da capire, sempre quando uno gioca da 9 e mezzo l'altro gioca da 9 e più fai fatica a vedere. Però sicuramente un giocatore difficile da marcare, un giocatore che dà grande ritmo, un giocatore che tiene compatto i tuoi squadri, non solo sul campo ma anche come leadership fuori dal campo. Insomma, con tutte queste cose qua e con ovviamente una presentazione è chiaro che noi dobbiamo, se vogliamo avere qualche possibilità dobbiamo fare solo una grande partita. Una grande partita difensiva perché non abbiamo il talento che hanno loro per pensare di fare chi fa un punto di più. Difensiva perché loro hanno tanti modi di attaccare con tante opzioni, quindi devono essere molto concentrati su ognuno dei loro giocatori, su quello che possono fare. E poi allo stesso tempo è una partita, come dicevo, in attacco interessante, una partita di attacco intelligente. Perché, come ho detto prima, Cremona è una squadra che usa il suo fisico e ha anche una difesa assolutamente consistente, che ti mette in difficoltà e quindi bisogna giocare bene anche in attacco.